Con la seduta di ieri pomeriggio la prima commissione ha concluso l'istruttoria sul regolamento relativo alle emissioni rumorose. È stato un lavoro lungo, molto approfondito, molto accurato e ieri è stata presentata la bozza definitiva di proposta di regolamento che è la risultante della discussione che c'è stata in commissione sia da un punto di vista documentale sia da un punto di vista di discussione verbale con le audizioni di tutti i soggetti e le categorie interessate. Il percorso a questo punto passa all'attività della Giunta che deve formalizzare il regolamento con una delibera ma il percorso di miglioramento del regolamento non finisce qui nel senso che poi nella procedura formale di approvazione una volta formalizzata con delibera il regolamento possono esserci dei perfezionamenti, dei miglioramenti con emendamenti chiaramente fino all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. Conclusa l'attività istruttoria della commissione adesso l'ufficio dei tecnici e della Giunta provvederanno a inviare questa bozza di regolamento che hanno presentato in commissione agli altri soggetti competenti come ad esempio l'ARPAT, dopodiché una volta avuto il parere anche di questi altri soggetti ritornerà in commissione come delibera, come ho già detto prima, quindi verrà formalizzata la proposta di regolamento definitivo. Grazie 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 Grazie